Il testosterone è un ormone fondamentale per il benessere psicofisico della persona, ma penso che questo tu già lo sappia. Io ho fatto tantissimi studi negli anni relativi a questo ormone perché è fondamentale sia per il benessere, ma anche per creare tutti i modelli di benessere in tutte e cinque le aree che ho insedito nella Wellness University. Ho trovato le informazioni veramente preziosissime. In questo video in particolare parleremo di come capire quali sono i sintomi di un testosterone basso anche senza fare le analisi del sangue, che ovviamente sono il top. Ho fatto anche tanti altri video sul testosterone, ho fatto anche uno di come aumentarlo in maniera naturale che vi è piaciuto anche particolarmente tanto e se vuoi scoprirli basta cercare su YouTube Mauro Pepe testosterone. Ora partiamo a bomba con questo video spiegandoti che questo video entra nella playlist del benessere fisico e mentale e dovrebbe entrare anche in quella relazionale e quella emozionale. Insomma, il testosterone è fondamentale in tutte le aree del benessere. E infatti nella Wellness University ne parlo veramente in maniera specifica. Aiuto un sacco di persone a migliorare questo ormone. Ma facciamo una premessa doverosa, molto doverosa. Non è un video medico, ovviamente, ma questo lo davo quasi per scontato. Non è un video di cura, ovviamente. Ovviamente, il top in assoluto è quello di fare delle analisi del sangue prescritte da un medico e farsi seguire dal medico per ripristinare i livelli di testosterone qualora fosse basso. Ovviamente questo è un video divulgativo che mira al benessere come tutto quello che riguarda i video del mondo vincicolamente. Partiamo a bomba, andiamo a vedere quali sono i sintomi. Li ho inseriti in questo foglio e il testo di questo foglio lo troverai in descrizione nel video YouTube. Andiamo a vedere subito. Primo sintomo, l'affaticamento eccessivo. Quando ti senti sempre stanco, sempre stanco, sempre stanco e non riesci a recuperare questa stanchezza neanche con un ottimo riposo, un'ottima dormita probabilmente, o potrebbe accadere, che hai il testosterone basso. Perché il testosterone entra proprio nella regolazione dei livelli di energia. E questo accade anche perché la produzione di energia e il mantenimento anche della vitalità sono tutti i processi metabolici in cui è coinvolto il testosterone. E questo non vale solo per i maschietti, anche per le femminocce. Due, diminuzione della libido. Questo è abbastanza semplice. Ovviamente, se si abbassa la voglia proprio, l'eccitazione e tutto il resto, potrebbe essere che i livelli di testosterone sono decisamente bassi. Tre, difficoltà di concentrazione e memoria. Uno dei fattori più importanti del testosterone è più dal punto di vista mentale ed emozionale. E una delle cose più importanti è che i livelli bassi di testosterone abbassano i livelli di concentrazione e soprattutto non ci permettono di memorizzare in maniera corretta. Quattro, l'aumento del grasso corporeo. Infatti, un calo del testosterone può alterare come il corpo immagazzina il grasso. Perché questo? Perché diciamo che il testosterone aiuta a mettere la massa magra. Se il testosterone è molto basso, non riuscendo a mettere massa magra, quello che mangi vai a nutrire la massa grassa. Questo spiegato in maniera molto semplice. Ovviamente, ci sono dei percorsi e soprattutto delle reazioni metaboliche decisamente delicate. Però è fondamentale avere il testosterone alto, altrimenti la massa muscolare non si riesce proprio a creare. Perdita di massa muscolare, quinto sintomo, ovviamente per quello che ho detto prima. Infatti, il testosterone è essenziale per il mantenimento della massa muscolare. Senza livelli adeguati, si può notare una diminuzione della forza e della massa muscolare, nonostante tu ti alleni. Infatti, si rischia quella che si chiama la sarcopenia. 6. Alterazioni dell'umore. Bassi livelli di testosterone sono frequentemente associati a sbalzi di umore, irritabilità e soprattutto stati depressori. L'ormone ha un impatto significativo sul benessere psicologico e sull'equilibrio emotivo. Non è un caso che in molti percorsi di coaching, quando mi accorgevo che c'erano degli sbalzi così, di umore così strani, abbiamo lavorato a livello fisico, con quelle strategie per alzare il testosterone, per migliorare addirittura l'umore e soprattutto i livelli di pensiero e il benessere mentale. 7. Riduzione della densità ossea. Ovviamente questo, senza delle analisi adeguate, non si può scoprire. Ma il testosterone è fondamentale per la densità ossea. Infatti mantenere dei livelli adeguati di testosterone anche all'avanzare dell'età è importantissimo per il benessere di una persona e soprattutto per evitare tutti quei malanni legati a una densità ossea più bassa. Ovviamente un'altra cosa importante che pochi sanno, la densità ossea si può manipolare, cioè la puoi migliorare, la puoi aumentare con l'esercizio fisico. Uno in particolare, quello per lo sviluppo della massa muscolare. Più aumenti la massa muscolare, più migliora la densità ossea. 8. Difficoltà nel mantenere l'erezione. E questa è abbastanza scontata. Non riuscire a mantenere l'erezione per un intero rapporto sessuale. Ora, esistono tante strategie per portare su il testosterone. Quali sono i passi da fare? Il primo passo è andare su YouTube e cercare Mauro Pepo e testosterone. Ho fatto vari video, alcuni dove per capire davvero cosa fa il testosterone, benefici di un ottimo testosterone, cosa sono le situazioni quando il testosterone è basso e soprattutto come fare per aumentarlo naturalmente, senza un'integrazione di testosterone. Ma il passo in più, il passo top, se ti accorgi di avere un testosterone basso o vuoi conoscere i tuoi livelli veri di testosterone, l'ideale è fare delle analisi del sangue, facendoti seguire da un medico che poi dopo, eventualmente, può anche prescriverti una cura o un'integrazione particolare. Ora, la cosa più importante che voglio dirti alla fine di questo video è che si possono raggiungere i livelli di benessere straordinari. Però per raggiungere i livelli di benessere straordinari, avere molta più energia, io dico spesso più 300% di energia, avere un livello psicofisico straordinario, la capacità di gestire le proprie emozioni in maniera straordinaria, è importante prendere in mano la situazione, prendere in mano la vita e iniziare a creare tutte quelle abitudini che trasformano completamente la qualità della tua vita. E questa è la missione del mondo Vinci con la mente. Io vengo da alcuni giorni di un corso che si chiama Il destino nelle tue mani, dove ho aiutato le persone a fare un viaggio introspettivo molto profondo, dove abbiamo lavorato sui bisogni fondamentali, sull'identità, le convinzioni, abbiamo eliminato alcune convinzioni improduttive e inserito delle convinzioni veramente potenzianti. Abbiamo lavorato sui valori e le regole per davvero. E abbiamo inserito anche i valori critici con le regole pericolose. Poi abbiamo lavorato sulle quattro radici, sulle ferite del passato, abbiamo risolto ferite del passato di alcune persone stesso in aula ed è stato un momento magnifico, a un livello emozionale meraviglioso. Poi abbiamo lavorato sui nervi scoperti, fino ad arrivare a disegnare il quadro della vita, dopo aver trovato la propria visione, la propria missione e il proprio scopo della vita. Quella è una parte della Wellness University. Tutto il mondo vinci con la mente e andrà sempre di più per aiutare allievi. Te proprio, tu che stai guardando questo video fino a questo momento, aiutare gli allievi a prendere in mano la propria vita e farne il proprio personale capolavoro, conquistando il vero benessere personale. Se sei interessato, contattaci. Abbiamo tanti percorsi diversi e abbiamo anche percorsi adatti proprio a te. Io da parte mia ti do un abbraccio affettuoso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!